Giorno di Rovigo è, posso dire, un vero creativo. No, è vero, lui fa un sacco di cose, fa anche tante tante. Pensa in fretta, agisce in fretta. Poi sembra che sia così, quindi Rovigo invece è un cosmopolita. Cosmopolita, sembra un cazzone, un innovatore. E' un grande fenomeno di provincia, ma in realtà è dirompente. Pensare localmente e agire globalmente. E' male che c'è questa scarpita. Ciao!